La morte di Aldonaro, intervento dei familiari sul processo, siamo ancora in primo grado. Caltanissetta, prevenzione dell'abusivismo commerciale, tavolo tecnico in questura. Caltanissetta, Movimento 5 Stelle, si dimette il capogruppo consigliare Michele Doro. Tomaselli, il caso delle linee, il presidente della Federazione Italiana Rugby, scrive al sindaco. Ancora un rinvio nel processo per la rissa legata all'omicidio del giovane medico sancataldese Aldonaro, con le accuse per i tre imputati ormai prossime alla prescrizione. Una situazione che ha spinto i familiari dello sfortunato giovane a dire basta, tanto che hanno deciso di non essere più presenti alle udienze che si svolgono davanti al giudice monocratico di Palermo. Aldonaro venne ucciso il 14 febbraio 2015 nel corso di un parapiglia scatenatosi all'interno dell'ormai ex discoteca Goa di Palermo, nel quartiere Zen, durante una festa di carnevale. I colpi ricevuti non lasciarono scampo al giovane professionista. Attualmente è in corso un processo per omicidio in corte d'assisi a Palermo, che riprenderà nelle prossime settimane. In questo caso sono imputati gli ex buttafuori del locale Francesco Troia, Antonino Basile, entrambi rispondono di rissa aggravata, e Massimo Barbaro, il proprietario dell'ormai ex discoteca, che risponde di favoreggiamento nei confronti di un minore, finora l'unico condannato per l'accusa di omicidio, in quanto non avrebbe riferito alcuni dettagli all'inquirenti, agevolandone la fuga. I genitori di Aldonaro, il generale dei carabinieri Rosario Naro, la moglie Anna Maria Ferrara e la sorella della vittima Maria Chiara, parti civili con gli avvocati Salvatore Falzone e Antonino Falzone, hanno affermato Non è tollerabile che un processo del genere possa trascinarsi stancamente per un così lungo periodo di tempo. Siamo ancora in primo grado e con ogni probabilità i reati cadranno in prescrizione. La nostra pazienza è stata messa a durissima prova. Rinvii troppo lunghi tra un'udienza e l'altra, ripetute assenze di testimoni, continui forfè da parte di consulenti tecnici di parte, senza che sia mai stato disposto il loro accompagnamento coattivo. È come se non bastasse la mancata nomina dei periti per la trascrizione delle intercettazioni fino allo scorso luglio. Oggi in questura a Caltanissetta si è tenuto il primo incontro del tavolo tecnico per la prevenzione dell'abusivismo commerciale. È incontro presieduto dal questore di Caltanissetta e Emanuele Ricifari, cui hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizie Municipali, dei Comuni Maggiori e i componenti dell'ASP e dei Vigili del Fuoco. Ha previsto la programmazione di specifici servizi per la prevenzione e la repressione dell'abusivismo commerciale, come previsto dagli indirizzi stabiliti l'8 settembre scorso per il Comitato Provinciale, per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto in Prefettura. Già da qualche settimana hanno avuto inizio i controlli interforze, che hanno come scopo quello di far rispettare la legalità in tutti i settori commerciali e in particolare in quello itinerante, tutelando così gli operatori che rispettano la legge, i regolamenti di settore, i limiti delle licenze di cui sono titolari. Sono infatti operatori commerciali a rischiare di subire la concorrenza sleale da parte di soggetti improvvisati o di abusivi professionali e di un inquadro sociale attuale e complesso, l'intervento interforze voluto dal tavolo tecnico diventa indispensabile. La Polizia Stradale ha eseguito alcuni controlli su due pullman che dovevano essere utilizzati per delle gite scolastiche, rilevando irregolarità ed elevando le sanzioni previste dalla legge. Nel primo caso gli agenti hanno accertato che un autobus noleggiato da una scuola nissena per una gita scolastica aveva un portellone, utilizzato anche come uscita di sicurezza, non funzionante, creando così un pericolo in caso di emergenza. I poliziotti hanno quindi fermato il bus e la ditta di trasporto interessata ha rimediato, mettendo a disposizione degli alunni un nuovo autobus. La seconda sanzione è stata invece inflitta per la mancanza su un altro pullman dei martelletti in rompivetro e della cassetta di pronto soccorso. La Polizia Stradale da alcuni anni ha avviato una collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, assicurando alle scuole che ne fanno richiesta un servizio di controllo sia prima della partenza che nel corso del viaggio, sui mezzi di trasporto dedicati alle visite di istruzione. Dopo tre anni da capogruppo del Movimento 5 Stelle, il consigliere comunale Michele Doro annuncia le sue dimissioni. Dopo aver svolto il suo ruolo con impegno e nel rispetto dei suoi colleghi, ha deciso di lasciare il ruolo ad altri consiglieri che prenderanno il suo posto. Il suo lavoro continuerà nel sostegno dell'amministrazione comunale, come ha sempre fatto. Il gruppo consigliare è stato informato delle sue intenzioni e presto si saprà il nome del suo successore ed è lì che si formalizzeranno le sue dimissioni. Io sono stato nominato capogruppo del Movimento 5 Stelle nel novembre del 2019, quindi quasi tre anni fa. Solitamente noi ruotiamo il capogruppo ogni sei mesi, ogni anno e quindi era un po' anomala la mia permanenza in questo ruolo. Lo sono stato finora perché il gruppo mi ha sempre dato fiducia, mi ha sempre chiesto di continuare. Ringrazio quindi tutti i colleghi che finora mi hanno dato fiducia e auguro al mio successore di svolgere il ruolo in maniera migliore di quanto non l'abbia potuto fare io. Sarò sempre a fianco dell'amministrazione, sosterrò le azioni del Movimento perché questo vuole la città, che si realizzi il programma con il quale ci siamo presentati e questa è una promessa che abbiamo fatto, intendiamo mantenerla sino alla fine. Quindi auguri al successore, al gruppo e all'amministrazione attiva. Continuo a tenere banco la questione legata al Marco Tomaselli. Il campo, oramai pronto alla consegna per lo svolgimento delle attività sportive, attraversa uno spinoso problema legato alle segnature del campo da gioco, per far coincidere le attività di calcio e del rugby. Ieri, in una nota recapitata al sindaco, il presidente della Federazione Italiana Rugby Innocenti ha scritto il suo disappunto per la vicenda delle segnature del campo che vanno effettuate secondo capitolato. L'intarsio delle linee del polivalente rettangolo di gioco rugby-calcio non è stato eseguito secondo ciò che è previsto nel capitolato e che rischia di evolvere in maniera estremamente negativa. E se l'adeguamento dei lavori non dovesse avvenire in tempi brevi, la Federazione Italiana Rugby sarà costretta a percorrere vie meno amichevoli. In tal senso ne abbiamo parlato con l'assessore Marcello Franciamone che ha seguito i lavori del Tomaselli. Ho chiesto all'ufficio tecnico di approfondire la questione, anche se, devo dire, non credo che debba essere centrata solo ed esclusivamente sugli aspetti del capitolato tecnico, ma si tratta di attività sportive e quindi credo che sia importante anche valutare quello che dicono i regolamenti per le omologazioni appunto degli impianti stessi. Io dico che lo stadio è della città e quindi deve essere tutta la città che ne deve beneficiare. Il rugby, il calcio, l'atletica leggera, sia quella agonistica sia quella amatoriale che si svolgeva e si risvolgerà nuovamente all'interno dello stadio, devono essere attentamente valutate e attenzionate da questa amministrazione. Ed è chiaro che l'omologazione del manto erboso deve passare dai regolamenti, i regolamenti che fanno le federazioni e vengono approvati dal CONI. Io sono certo che leggendo proprio quei regolamenti si può trovare una soluzione al problema e comunque ribadisco sempre il fatto che la nostra amministrazione, sindaco in testa, siamo sempre stati e saremo sempre disponibili a dialogare con le due federazioni per trovare una soluzione che deve venire però dall'ambiente sportivo, quindi dalle federazioni e dal CONI, per trovare una soluzione anche magari sperimentale, per risolvere definitivamente questo problema che credo che non sia soltanto dello stadio di Caltanissetta ma che interessi un po' le altre città dove ci sono impianti tipo polivalente, dove si svolgono attività sportive di diverso genere. Ha suscitato con mozione e sorpresa il decesso dell'avvocato Tullio Giarratano, 80 anni, personaggio molto conosciuto in città. Negli anni scorsi aveva ricoperto l'incarico di presidente di Assindustria ed era stato anche direttore generale del Consorzio Asi di Caltanissetta, oltre che componente del Rotary Club. Nel corso delle sue esperienze era anche intervenuto sui problemi della città, per cercare di proporre soluzioni per il territorio. Essendo vicino al mondo imprenditoriale, aveva vissuto gli sconvolgimenti che portarono alle rivoluzioni ai vertici di Assindustria nissena, tanto che alla luce degli eventi aveva anche deciso di costituirsi parte civile nel processo sul cosiddetto sistema montante, durante il quale era anche salito sul pretorio come testimone. I funerali dell'avvocato Giarratano si svolgeranno venerdì 7 ottobre alle 11 in cattedrale. Comincia proprio oggi 6 ottobre a Sabucina il triduo di preparazione in attesa del giorno della festa in onore della Madonna del Rosario. La comunità parrocchiale infatti si raccoglie in preghiera sino a domenica, quando intorno alle 17 comincerà una processione, accompagnata dalla banda musicale, seguita poi dalla celebrazione della messa all'aperto intorno alle 18.30, e poi i festeggiamenti si chiuderanno con i fuochi d'artificio. Dopo la pandemia finalmente possiamo riprendere la tradizionale processione in onore della Madonna del Rosario, alla quale la Chiesa è intitolata. La festa è una devozione mariana, perché come dicevo appunto la Chiesa è intitolata la Madonna del Rosario. In passato la Chiesa è stata parrocchia, quindi aveva le attività tipiche e ordinarie della parrocchia. Era una parrocchia rurale naturalmente per la conformità anche del territorio circostante. Poi con gli anni il territorio si è un po' svuotato dai suoi abitanti e la Chiesa è stata ridotta a rettoria, affidata alle cure del parroco di Santa Barbara. E quindi sia il mio predecessore, padre di Vincenzo, oggi ci occupiamo della cura anche di questo luogo, che nonostante tutto comunque è utilizzato, perché comunque di tanto in tanto noi celebriamo, utilizziamo la Chiesa e i locali attigui per ospitare gruppi, attività scout e ritiri spirituali, si celebrano anche alcuni matrimoni. Quindi è un luogo che alla fine ha ancora una sua frequenza, anche un suo valore, soprattutto per coloro che affettivamente sono cresciuti in questa Chiesa, in questi luoghi, e tornano volentieri a visitarla. Si prevedono anche dei momenti di intrattenimento e condivisione, come la Sagra della Salsiccia e poi ancora l'artista Carlo Canebba, sarà ospite della serata organizzata dal Comitato Pro Festeggiamenti di Sabucina, sabato 8 ottobre. Sarà presente anche Antonella Cirrone. Ci sono degli eventi collaterali che sono organizzati dal Comitato, della Madonna di Sabucina, un gruppo di persone che frequentemente, abitualmente recitano il Rosario durante l'anno nella Chiesa, si prendono cura anche della stessa Chiesa, curando tutti quegli aspetti minimi della manutenzione ordinaria, garantendo così anche la fruibilità e l'accessibilità di questi luoghi. Tra gli eventi collaterali è prevista una serata con il conimico Canebba che si svolgerà il sabato sera, lì nel piazzale esterno di fronte alla Chiesa. Un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì Tempo sull'Italia continua a mantenersi stabile all'insegna del bel tempo proprio per effetto di un campo di alta pressione che domina il Mediterraneo centrale, ma anche parte dell'Europa centro-occidentale. Infatti dal punto di vista anche della nuvolosità, a parte qualche velatura di passaggio, il contesto rimane sempre ben soleggiato, salvo qualche possibile foschia o banco di nebbia all'alba nelle zone interne del centro-nord. Infatti osservando proprio quello che ci aspetta nel corso di giovedì avremo una giornata all'insegna del sole praticamente ovunque. Come dicevo, attenzione a qualche banco di nebbia o foschia nelle prime ore del mattino, nelle vallate interne del nord e del centro Italia, con anche qualche nuvola bassa sul Piemonte verso il Friuli-Venezia-Giulia ma poi in diradamento, al sud tempo soleggiato, qualche annuvolamento sul versante adriatico, clima che resta insolitamente mite con punte vicine ai 25-27 gradi localmente sul comparto tierrenico e zero termico che sull'arco alpino si mantiene attorno ai 4.000 metri. Tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Scarantino Via Paolo e Emiliani Giudici Servizio notturno Del Corso Corso Vittorio Emanuele Corso Vittorio Emanuele Corso Vittorio Emanuele Corso Vittorio Emanuele Grazie.